Ciao a tutti da Sonia e bentornati su Speziata. Oggi vi propongo un classico della cucina romana, gli spaghetti alla carbonara. Per due porzioni utilizzo 180 g di spaghetti, 2 tuorli, 70 g di guanciale, 35 g di pecorino romano, o se si preferisce un gusto più delicato, un misto tra pecorino e parmigiano, un filo d'olio, sale e pepe nero. È un piatto che si prepara in pochissimo tempo, quindi mettiamo subito la pentola dell'acqua sul fuoco e cominciamo a tagliare i guanciale a striscioline. Tagliamo innanzitutto la cotenna, perché è una fetta molto alta la divido in due. Tagliamo delle lesserelle sottili, dove la fetta è troppo larga possiamo anche tagliarla a metà. A questo punto prepariamo il composto di uova. Separiamo gli albumi dai tuorli e aggiungiamo ai tuorli il pepe nero. Per chi preferisce può utilizzare anche un uovo intero e un tuorlo. È il turno del formaggio. Lavoriamo fino ad ottenere un composto ben amalgamato e omogeneo. L'acqua bolla e quindi possiamo mettere in cottura la pasta. Ricordiamoci di aggiungere poco sale perché il pecorino è molto sapido. Nel frattempo che la pasta cuoce possiamo far rosolare il guanciale, quindi mettiamo un filo d'olio in una padella, aggiungiamo il guanciale e lo facciamo rosolare a fiamma molto delicata. Aggiungiamo un pizzico di pepe e aspettiamo che il guanciale diventa croccante. A questo punto il guanciale è pronto, quindi spegniamo il fuoco e lo togliamo dalla padella. Lo scoliamo per bene e lo mettiamo da parte. Quando mancano circa 3 minuti alla fine della cottura della pasta scaldiamo il grasso e aggiungiamo 2 mestoli di acqua di cottura. Scoliamo poi la pasta e lasciamo ultimare la cottura. Quando la pasta sarà pronta, dovrà essere comunque al dente, spegniamo e aggiungiamo il composto di uova. Dobbiamo però lasciarla sempre abbastanza umida. Prima però allunghiamo il composto di uova e formaggio con pochissima acqua in modo da renderlo leggermente più fluido. Mescoliamo, saltiamo più volte la pasta fino ad ottenere una preparazione bella cremosa. Aggiungiamo metà del guanciale e lo amalgamiamo bene alla pasta. Se la pasta ci sembra troppo asciutta possiamo aggiungere pochissima acqua di cottura. I spaghetti sono pronti, li possiamo servire. Prima di servire completiamo con un po' di pecorino, lo mettiamo solo intorno e un po' di guanciale croccante. Lo ultimiamo con una leggera spolverata di pepe nero. Facile, buono e veloce. Certo è un po' calorico però ogni tanto vale la pena concedercelo. Preparatelo anche voi e gustatelo con un buon bicchiere di vino rosso. Se questa ricetta vi è piaciuta condividetela, vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie a tutti per aver visto questo video, vi saluto e vi aspetto per le prossime videoricette.